cari fratelli e care sorelle grazia e pace da dio padre e da cristo gesù nostro salvatore amen dice l'antico salmista ho pazientemente aspettato il signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione dal pantano fangoso ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ha resi sicuri i miei passi e gli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro dio molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel signore amen ci raccogliamo in preghiera padre celeste veniamo davanti a te con ringraziamento per tutta la tua misericordia e la tua grazia questa mattina dacci la fede di essere sicuri di ciò in cui speriamo e certi di quel che non vediamo di credere che tu sei e che ricompensi quelli che ti cercano veramente così da poterti piacere e ricevere quel che tu hai promesso in cristo gesù nostro signore amen ascoltiamo l'innocento 48 grazie a tutti 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 dal libro del profeta Geremia al capitolo 4 i versetti 11 e 12 e da 22 a 28. In quel tempo si dirà a questo popolo e a Gerusalemme un vento infuocato viene dalle alture del deserto verso la figlia del mio popolo non per vagliare non per nettare il grano un vento anche più impiettuoso di quello verrà da parte mia ora anch'io pronuncerò la sentenza contro di loro veramente il mio popolo è stolto non mi conosce sono figli insensati non hanno intelligenza sono saggi per fare il male ma il bene non lo sanno fare io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta i cieli sono senza luce guardo i monti ed ecco tremano tutti i colli sono agitati guardo ed ecco non c'è uomo tutti gli uccelli del cielo sono volati via guardo ed ecco il carmelo è un deserto tutte le sue città sono abbattute davanti al signore davanti alla sua ira furente infatti così parla il signore tutto il paese sarà desolato ma io non lo finirò del tutto a causa di ciò la terra è afflitta e i cieli di sopra si oscurano perché io l'ho detto l'ho stabilito e non me ne pento e non ritratterò amen cari fratelli e care sorelle quando penso alla deportazione degli ebrei a rabilonia spesso mi vengono in mente i libri gialli romanzi e racconti nei quali avvengono uno o più delitti e l'investigatore di turno cerca di comprendere il movente e l'identità dell'assassino c'era una logica nell'immane catastrofe che si abbatté sui discendenti di abramo c'erano indizi sui quali basarsi per trovare una spiegazione i sacerdoti e gli iscrivi deportati a babilonia cercavano di risolvere l'enigma e trovavano nelle parole di profeti come geremia gli elementi per formulare delle ipotesi proviamo allora a metterci nei panni di un novello sherlock holmes e come gli antichi abitanti del regno di giude in esilio cerchiamo di vedere se il testo che abbiamo appena riascoltato possa aiutarci a comprendere perché una simile tragedia si fosse verificata la prima cosa che si nota ed è una sorpresa a dir poco sconvolgente è che la catastrofe non fu un incidente di percorso lo scherzo di un destino cinico e baro né tanto meno la prova che gli dei di babilonia erano più forti del dio di giuda infatti il signore stesso aveva utilizzato i babilonesi come strumento per infliggere al suo popolo una punizione meritata il concetto è espresso in maniera poetica utilizzando l'immagine il vento ardente del deserto che brucia i raccolti e riduce in miseria un'immagine che è anche teologica se consideriamo quante volte il turbine sia associato alla presenza dell'eterno ma non di meno è un'immagine micidiale un'immagine che non lasciava scampo l'idea di un dio giusto che quando se lo merita punisce il suo stesso popolo era ed è sorprendente profeti come anania avevano garantito che il signore non avrebbe permesso la vittoria babilonese poiché era fedele e amava gli ebrei gli avrebbe difesi a prescindere tuttavia come disse il famoso investigatore di conan doyle eliminato l'impossibile ciò che resta per improbabile che sia deve essere la verità e la verità è che i fatti diedero torto ad anania e ragione a geremia nabucco donosor aveva conquistato gerusalemme questa tuttavia non è che una parte della spiegazione il signore era del tutto insoddisfatto del comportamento del suo popolo d'accordo il signore aveva utilizzato i babilonesi come strumento di punizione va bene ma qual era la colpa del re di giuda e di tutti i suoi sudditi anche qui del primo acchito si rimane basiti la loro colpa era l'ignoranza essi non conoscevano più il loro dio la sua legge e le sue promesse questo li aveva condotti a un comportamento stolto prima ancora che disonesto già che mostrava in modo inconfutabile uno stile di vita che ignorava travisava e relativizzava il dio dei loro padri a parole si adoravano sempre l'eterno ma poi offrivano sacrifici anche a bal in teoria si avrebbero dovuto rispettare il diritto dell'orfano della vedova e dello straniero ma in pratica come ci mostra l'insistenza con la quale l'antico testamento torna su questo tema questo diritto era invece largamente disatteso l'ignoranza delle cose di dio si traduceva nella mancanza di amore per il signore e per il prossimo una mancanza di amore tanto più grave quanto più sfacciata e clamorosa come poteva il signore non essere adirato di fronte a tanta impudenza così cari ascoltatori abbiamo trovato il movente abbiamo scoperto che la vittima era al tempo stesso il colpevole e che il mandante del delitto invece agiva per amore di giustizia tuttavia geremia non elevò un canto all'equità dell'eterno ma completamente solidale con i suoi fratelli rimase sgomento e annichilito da quanto vide l'intera creazione sconvolta la logica benigna della creazione capovolta il caos primigenio nuovamente imperante terra e cielo oscurati in lutto gli uccelli e gli animali scomparsi le città disabitate nulla si salvava niente era risparmiato ma qui quando si può soltanto cadere in ginocchio e piangere arriva un nuovo e ancora più clamoroso colpo di scena da un lato il signore dichiarò io l'ho detto l'ho stabilito e non me ne pento e non ritratterò cosa che rappresenta una vera e propria pietra tombale su ogni speranza umana dall'altro l'eterno affermò tutto il paese sarà desolato ma io non lo finirò del tutto perché il dio giusto rimane sempre il dio che ama e anche quando la giustizia esigerebbe una punizione assoluta l'amore vi pone dei limiti dove la giustizia esclama mai più l'amore sussurra ancora una volta il nostro secolo ha già visto orrori che hanno ben poco da invidiare a quelli vissuti dagli antichi ebrei e da questo punto di vista investigare le motivazioni teologiche che stanno dietro certe tragedie come fecero i deportati a babilonia non sarebbe davvero tempo sprecato così come non credo sarebbe fonte di particolare stupore per scoprire che oggi l'ignoranza di dio della sua volontà e delle sue promesse è ancora assai diffusa per non parlare dell'abuso che viene fatto del suo nome tuttavia proprio come i contemporanei di geremia anche per noi è possibile guardare al futuro con un briciolo di ottimismo il signore è un dio giusto che ama la giustizia ma e questo è un ma grosso come una casa è anche un dio misericordioso che perdona che dimentica nonostante tutto gli ebrei deportati a babilonia potevano conservare un filo di speranza perché dispetto delle proprie colpe si affidavano alla sua grazia e se oggi possiamo guardare al domani con un minimo di serenità malgrado i mali che ci affliggono e dei quali siamo spesso partecipi è perché ci affidiamo con fiducia alla medesima grazia sì la bibbia è meglio di qualunque giallo anzi mi azzarderei ad affermare che sia il più bello dei romanzi rosa una meravigliosa storia d'amore che si dipana attraverso i secoli nella quale dio l'eroe rimane fedele alla propria amata accada quel che accada e nella quale l'umanità l'eroina sebbene ne combini di tutti i colori può sempre contare sull'aiuto del signore è una storia che non smette di commuovermi e di edificarmi specie quando considero che anche la mia storia la storia della mia relazione con un dio dall'amore eterno e questo è vero anche per te caro fratello e cara sorella all'ascolto anche nelle ore più buie della tua vita dietro le nube più minacciosi splende sempre la grazia non sempre si vede ma c'è e questo è l'importante amen ci raccogliamo in preghiera signore gesù nostro salvatore i nostri cuori sono freddi riscaldali mediante il tuo amore disinteressato i nostri cuori sono peccaminosi purificali mediante il tuo sangue prezioso i nostri cuori sono deboli rafforzali mediante il tuo spirito gioioso i nostri cuori sono vuoti riempili con la tua presenza divina signore gesù i nostri cuori sono tuoi possiedili sempre e tienili solo per te stesso amen ascoltiamo ora il padre nostro padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo darci oggi il nostro pane quotidiano rivettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non c'è sporre alla tentazione ma liberarci dal maldino e non c'è sporre alla tentazione ma liberarci dal maldino poi che a te ha fatto il ventuno il regno e la potenza e la gloria Il Signore Gesù Cristo vi tenga nelle sue mani, vi assicuri la grazia di vederlo, di conoscere la sua via, di sentirlo vicino. Che vi trovi ora nella quiete e vi tenga stretti nella frenesia del giorno per amore della sua gloria. Amen. Grazie